Le SGR per aiutare il risparmio degli italiani e gli italiani in generale dovrebbero smettere di fare dei prodotti troppo complicati, dei prodotti troppo a favore di chi li vende e non a favore di chi li compra e già questo sarebbe un grossissimo passo avanti. Dovrebbero aumentare magari anche la trasparenza ma non tanto dal lato dell'investimento che è una tecnicalità. Quando si parla di fondi tendenzialmente si cerca sempre di andare a parlare dei mercati, di come vanno le cose, dei titoli che ci sono dentro. In realtà credo che alla gente interessi di più come vengono gestiti in generale, non tanto tecnicamente ho comprato questo titolo, ho venduto quest'altro titolo, ho il dollaro, non ho il dollaro. La cosa importante è capire la destinazione d'uso dei soldi, aiutare le persone a capire che cosa devono fare con i loro soldi. Una volta che io ho capito quello e riesco a individuare quali sono i miei obiettivi, riesco a individuare quali sono appunto la destinazione d'uso dei miei soldi, ho già fatto l'80% del mio lavoro perché poi il fondo è una conseguenza di questa cosa. Esempio banalissimo, se io mi devo portare i soldi alla pensione fra 30 anni, evidentemente il fondo più adatto per fare quella cosa è un fondo azionario perché in 30 anni 99 su 100 renderà molto di più di un fondo obbligazionario, anche se sembra controintuitivo perché i soldi della mia pensione li devo tenere al sicuro, se compro un fondo obbligazionario a breve termine sono sicuro di perdere fra 30 anni perché non tengo magari neanche il potere d'acquisto, invece in 30 anni ho tutta la possibilità di stare dentro nelle oscillazioni del mercato e alla fine dei 30 anni probabilmente con un fondo azionario avrò ottenuto un miglior risultato. Per cui la destinazione d'uso dei soldi è evidentemente fondamentale. All'estremo opposto, se fra un anno mi devo comprare una casa o mi devo comprare una moto o una macchina e c'ho lì 20, 30, 40, 50 mila euro a secondo del bene che mi devo comprare è evidente che non ha molto senso investire in un prodotto magari rischioso perché se fra sei mesi il mercato è sceso il 20% invece di avere i miei 50 mila euro ce ne ho solo 40 mila e mi compro o una macchina più piccola o addirittura non me la compro. Per cui capite bene che la destinazione d'uso dei soldi è il primo aspetto che dovrebbe essere spiegato ed è quello più importante. Il resto, fatemi dire, è contorno. L'altra cosa importante che spesso le SGR non spiegano è tutto il contorno legato ai costi. È lasciato un po' al buon cuore di chi ha voglia di andarselo a vedere. Spesso non è molto chiaro, ci sono commissioni nascoste di tutti i tipi e questo sicuramente non fa il bene del risparmio italiano anche perché noi viviamo in una nazione che credo sia la seconda nazione al mondo come risparmio, credo che dovremmo essere i secondi dopo il Giappone, comunque se non siano secondi siano primi, se non siano secondi siano terzi e per cui cerchiamo di utilizzare questa nostra risorsa in maniera propositiva. Raspare in fondo al barile per cercare di andare a prendere quei soldini in più o quelle commissioni in più per magari un obiettivo di breve termine diventa negativo per tutti noi, diventa negativo per il sistema.